Amici e amiche della Rechico, siamo all'atto finale, gara 5 del quarto di finale tra Rechico e Bernareggio, si gioca domani alle 19 in Lombardia e questo pre-partita lo facciamo con uno dei protagonisti di queste prime quattro gare, Giacomo Filippini. Ciao Jack! Ciao a tutti! Beh, forse queste simili partite si commettero da sole. Si gioca tutto mercoledì? Sì, classica partita da dentro fuori, ormai gli avversari li conosciamo bene, quindi dobbiamo rispettare il piano partita e provare a fare quello che non ci è venuto finora, cioè vincere fuori casa. Ecco, è incredibile come davvero in casa vi siate trasformati rispetto alle prime due partite, avete vinto bene venerdì in gara 3, addirittura in gara 4 è stata una sorta di dominio nel finale, avete toccato anche il più 31. È vero, come diceva Coach Serra, che il vostro riscatto è iniziato nell'intervallo di gara 2? Sì, 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 assolutamente sì. Purtroppo abbiamo approcciato male la seconda partita e abbiamo preso un'imbarcata di punti. Abbiamo avuto una reazione d'orgoglio che lì per lì non ci ha permesso di portare via la partita, che però ci ha dato lo sprint per le due partite casalinghe. Ecco, tanta intensità, è stata questa un po' la vostra arma nelle ultime due gare? Sì, come quasi sempre, ogni volta che giochiamo bene perché giochiamo intensi, soprattutto in difesa. Quando appunto stiamo l'asticella riusciamo a mettere in difficoltà chiunque. Ecco, l'altro lato bello è che tutti davvero avete dato il contributo, non è una frase fatta perché basta poi vedere le statistiche. Sì, 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 ma quando la palla gira ci sono punti per tutti, ci sono occasioni per tutti di segnare e di lasciare l'impronta nella partita. Ecco, domani che partita ti aspetti? Sia dal lato, diciamo, tattico, sia dal lato, mi viene da dire, anche un po' ambientale? Perché ricordiamo che Bernareggio è un campo anche più piccolo rispetto al vostro, dove finora soltanto una squadra ha vinto, che è aggrigento. Sì, è un campo non facile appunto perché è piccolo e per quelli che ci giocano in casa e che ci salivano tutti i giorni sicuramente è un vantaggio non da poco. Da punto di vista tattico mi aspetto qualche accorgimento da parte loro, perché hanno sofferto molto certe nostre scelte, quindi sicuramente qualcosa cambieranno, anche perché appunto essendo una partita senza domani bisogna che fai tutti i giustamenti possibili. E secondo te chi arriva meglio a questa partita? Mi avrebbe da dire noi, visto che le ultime due partite sono state molto unidirezionali, quindi dai, sono fiducioso. Perfetto. Jack, niente, grazie mille della chiacchierata, ci vediamo a Bernareggio, come dicevamo ieri con Petrucci, adesso sì, adesso lo diciamo apertamente, vogliamo la semifinale, non nascondiamoci in questo momento. Assolutamente. Grazie Jack, bocca al lupo e alla prossima. Alla prossima.